canto ventiduesimo il duello fra chi l'ettore e la morte di ettore siamo a uno degli apici di questo climax epico siamo quasi alla fine dell'iniade e la scena si apre con i troiani spaventati come cerbiatti chiusi dentro la città con gli achei che con gli scudi dietro la schiena probabilmente per correre più veloce sono giunti a troia e quindi la circondano la sediano appollo svela di essere se stesso appollo e caerge colui che colpisce da lontano epiteto anche per boio svela se stesso ad achille che così cessa di inseguirlo e questo incontro ravvicinato fra appollo e achille è suggestivo inquietante perché sarà poi appollo che guiderà la freccia di paride e l'ucciderà anche se è una scena che esce dall'idiade i mitografi la ricordano e avverranno molto tempo dopo la morte di ettore allora priamo vede achille che si avvicina un achille gigantesco un achille che splende come stella ma una stella sinistra sirio detto il cane di orione una stella ammirata per la sua bellezza e luminosità ma considerata in fausta perché apportatrice nel momento di sua maggiore luminosità coincideva con l'estate quindi apportatrice di un caldo che ha ritenuto degli antichi portatore di febbri e malattie e come una febbre come una malattia achille minaccia troia davanti alle porte c'è ettore il destino ha fatto in modo che le porte fossero chiuse prima che ettore fosse rientrato in città ma ettore comunque non voleva cercare rifugio dietro le mura della sua città lui che è il baluardo di troia lui che è il muro umano ed eroico di troia l'eroe della patria l'eroe della famiglia le ore della terra l'eroe che si sacrifica per la sua comunità mai così fu achille che si tiene sempre in disparte anche quando combatteva con i suoi mirmidoni a una posizione sempre distaccata rispetto a tutti gli altri per le sue caratteristiche per la sua origine per il fatto che giunge libero in guerra e non per obbedire da gamennone per tante ragioni qua invece achille guida lui tutti gli achei sembra identificarsi per un momento con quella luce dell'ellade quel capo dei popoli epiteti con cui viene chiamato da euripide e da omero ettore sta fuori dalle porte per tanti ragioni innanzitutto c'è tutta troia che dall'alto delle mura guarda l'avvicinarsi degli achèi e di achille quindi sarebbe disonorevole fuggire e disonorevole cercare il fuggio fra le piedi fra le mura secondo lo dice lo stesso il motivo lo dice lo stesso ettore io ho esortato spronato tanti troiani ad affrontare gli achèi ad affrontare achille e loro sono morti adesso non posso io evitare di combattere contro chile sarei tacciato di diviltà sarei offeso dell'onore da tutti i troiani e quindi lui sa quanto rischia sa che achille è più forte eppure non indietreggia questo è l'eroismo di ettore l'eroismo di chissà che ha poca speranza di vittoria e nonostante questo combatte si sacrifica per la patria da il bell'esempio dare il buon esempio priamo vede tutto qua dall'alto delle mura e pubblicamente sia lui che ecuba gridano ad ettore di non fare questa follia di affrontare da solo achille di rifugiarsi dietro le mura priamo usa anche un argomento persuasivo retorico interessante gli dice non dare gloria ad achille non dargli soddisfazione certamente se ettore evitasse combattimento chile non riuscirebbe a scalare queste mura prodigiose anche perché non è destino che conquisti lui troia per cui a chi le non riuscirebbe ettore sarebbe quindi fisicamente salvo ma perderebbe nell'onore non sarebbe più lui il baluardo della città venerato come un dio non sarebbe più l'eroe più grande dei troiani priamo grida e cuba grida bella la scena anche estetica oltre che sociologica di un priamo che già profetizza il massacro finale che porterà alla distruzione di troia senza ettore già canta una troia in fiamme e in sangue con un ettore già morto anche se ancora vivo e confronta la bella morte del giovane eroe che pur morto è ancora bello e qui vediamo per l'ennesima volta il valore etico altissimo che la bellezza per per gli antichi greci e naturalmente anche per i troiani a confronto invece della morte di un vecchio della morte di un anziano e pensa a se stesso priamo che è una morte disonorevole proprio la morte violenta la morte in battaglia è tanto bella per un eroe giovane quanto disonorevole per un anziano e questa è un'immagine molto forte molto cruda interessante che caratterizza che rappresenta una delle tecniche di convincimento che usa priamo per convincere tra e non affrontare da solo direttamente a chi arriva kille come un gigante e come ares scuote l'asta palleggia sembra un bullo in questo caso ma è un gesto virtuosistico fatto dai guerrieri quello di roteare l'asta di scuote alla prima del combattimento per incitare se stessi e spaventare il nemico e viene paragonato per l'ennesima volta alla luce del sole e al fuoco che divampa addirittura viene paragonato al falco al nibbio che assalta una povera colomba e qui Ettore ha un momento di paura di paura reale infatti sfugge fugge per tre volte corre attorno a troia alle mure di troia si allontanano anche un po dalla città perché per tre volte passano davanti alle fonti dello scamando e questo noto questa notazione è interessante perché lo scamando il fiume sacro di troia e quindi passare davanti alle sue fonti è un po come incrociare il destino della città Ettore ha rischio davanti alle fonti dello scamando inseguito da un velocissimo Achille indica la prossima fine della città queste fonti poi sono speciali sono divine perché sono sicuramente prodigiose in quanto sono duplici una fonte di acqua bollente fumante una fonte di acqua freddissima questo è un topos per le città più sacre per le città più meravigliose Atlantide secondo Platone ha due fonti una calda e una fredda Eleusi ha due fonti e questo quindi è un aspetto molto interessante alla quarta volta Ettore si ferma si fermano entrambi stanchi della corsa e Zeus qui manifesta la sua sofferenza la sua compassione per Ettore perché sa che a breve sarà ucciso lui che è così religioso lui che non gli ha fatto mai mancare i sacrifici fa un ultimo tentativo ma lui sa che il destino ha deciso questo Zeus però fa un ultimo tentativo addirittura coinvolgendo proprio Pallade Atena che è la più feroce nemica di Ettore dei Troiani e per farsi dire quello che lui sa Pallade lo dice Ettore è un uomo mortale e il destino ha segnato che deve morire quindi né Pallade né Zeus possono fare nulla infatti proprio nel momento in cui si fermano questa è la sapienza del racconto per immagini proprio di Omero Zeus appende la sua famosa bilancia d'oro alla visualizzazione del rapporto di Zeus col destino appende questa sua bilancia d'oro e loro si fermano Achille e Ettore si fermano e in quel momento la bilancia visualizza un'altra immagine simbolica le chere il destino di morte le chere queste specie di demoni rapace che indicano l'approssimarsi della morte la chiera di Ettore sale e la chiera di Ettore e la chiera di Achille in relazione ai piatti della bilancia una sale al nascende uno ancora risparmiato dalla chiera l'altro muore ecco succede che qui deve intervenire prima Pollo a rincuorare Ettore per dargli forza e poi addirittura deve intervenire Atena prima parla con Achille e poi va in forma di deifobo ad Ettore per dire dai combattiamo insieme affrontiamolo Ettore ci crede perché sembra deifobo in realtà poi quando gli chiede una seconda lancia vedrà che non c'è più nessuno lui è da solo con Achille quindi capisce che non può fare nulla nonostante questo attacca lancia la sua lunga asta Ettore che colpisce proprio il centro dello scudo di Achille ma è uno scudo di Efesto divino provvedigioso per cui anche inscalfibile e questo è uno dei segni premonitori della sua fine perché l'asta rimbalza lontano non ha una seconda asta ma nonostante questo non ha una seconda lancia Ettore con grande eroismo come un'aquila spada sguainata affronta Achille e Achille a sua volta sfolgora contro Ettore colpendolo proprio nell'unico punto del suo corpo libero dalla corazza che era la stessa corazza di Achille quindi abbiamo armi divine di Achille quelle nuove contro armi divine di Achille addosso al corpo di Ettore quelle vecchie che erano state dono degli dèi alle nozze di Peleo e Teti e con la sua spada Achille lo colpisce nell'unico punto tra clavicola, collo e gola in cui c'è uno spazio di corpo libero quindi un colpo estremamente preciso e netto Ettore morente cerca di chiedere il rilascio del suo corpo questo che aveva chiesto anche all'inizio del duello come patto ma era stato rifiutato da Achille e per la seconda volta Achille rifiuta questo nuovo patto che di solito era onorato dagli eroi Ettore profetizza Ettore morente questa è la terza profezia sulla prossima morte di Achille prima la fateti poi xanto il cavallo ora Ettore poi la farà una quarta il fantasma di Patroclo e gli dice è una profezia estremamente precisa i mitografi ci dicono che così accadrà cioè Paride e Apollo e Febo Apollo Apollo splendente Apollo figlio discendente della titana Febe lo uccideranno sopra le portesce con una freccia detto questo Ettore muore e abbiamo la famosa scena di Achille che lega delle strisce di cuoio ai tendini bucando i talloni di Ettore ai tendini e poi lo lega al carro e striscia attorno alle mura di Troia il corpo di Ettore per poi strisciandolo sempre col cocchio portarlo fino alle navi fino alla sua tenda è una scena molto cruda è una scena di disonore di spregio di annullamento della gloria Achille in questo caso vendica non solo Patroclo ma tutte le stragi di Achei che aveva fatto Ettore infatti mentre non seguiva aveva proibito a qualunque Acheio di interferire in questa battaglia in questo singolare attenzione è una scena certamente per noi contemporanea esagerata molto crudele e forte però è anche segno dell'ira di Achille contro il destino è l'ultima scena gloriosa della vita di Achille e Achille sembra quasi voler rallentare questo suo trionfo pur macabro pur lugubre perché sa che poi anche la sua vita è finita e abbiamo ora da grande poeta da grande epico Omero mostra il dolore mostra il dolore di Priamo di Ecuba e di Andromaca per Ettore non solo ucciso ma ucciso in quel modo ucciso e oltraggiato pubblicamente di fronte a Troia in quel modo che molto faceva soffrire gli antichi vedere il corpo dell'eroe disonorato e non glorificato dai riti funebri questo era come una seconda morte, una morte simbolica spirituale ancora peggiore della morte fisica è bellissima l'immagine di tutta Troia dalle sue vette, dalle sue colli alla base quindi una città verticale, Pindarola paragona una colonna a Troia perché ha alte mura e poi dei colli fra cui la rocca di Ilio col palladio al suo interno quindi una città verticale, una città a cielo e terra che sembra tutta bruciare sembra essere diventata tutta una vampa di fuoco mentre Achille striscia il corpo di Ettore attorno alle mura e poi lo porta verso le navi dei Teochi è veramente straziante e commovente la disperazione, il grido di Priamo che vorrebbe subito uscire dalla città per gettarsi ai piedi come suppliche di Achille e convincerlo a restituire al corpo come poi avverrà, come poi accadrà lo vedremo nel libro successivo con la spedizione notturna di Priamo ma viene trattenuto, si getta nella polvere, simile alla disperazione di Ecuba ancora di più la disperazione di Andromarcha ancora di più perché da grande regista, da grande scrittore epico da grande narratore per immagine Omeo rallenta la conoscenza dell'accaduto da parte della sposa di Ettore, di Andromarcha proprio per far riecheggiare ancora di più il dolore per rendere ancora più grandiosa nel dolore la manifestazione di questa gloria perché l'Iliade è gloria di Iglio, gloria di Ettore e infatti mostra Andromarcha che sta tessendo un vestito di porpora e sta facendo ignara di tutto e sta facendo bollire l'acqua per poi lavare Ettore quando tornerà dalla battaglia ma in questi segni c'è una profezia sinistra perché la porpora richiama il sangue, il bagno caldo richiama i bagni caldi come aveva preparato Achille per Patroclo per lavare il corpo dei morti quando lo sa, anche qua è commovente, straziante, il dolore pubblico il discorso di dolore tragico di Andromarcha perché è un discorso anche sociologico che mostra quanto fosse triste la condizione degli orfani e delle vedove ne parla molto anche la Bibbia, insiste moltissimo sulla difficoltà di vita delle vedove e degli orfani in balia della violenza o dei supprusi, delle umiliazioni da parte degli altri e addirittura il suo dolore si fa profezia di una vita di sofferenza anche rispetto a Stianatte, il piccolo bambino che senza il padre non sarà più onorato non avrà più una vita decorosa e gloriosa come se fosse vivo Ettore e finisce il canto ventiduesimo con questa immagine dei vestiti di Ettore che restano senza più lui in vita e che Andromarcha vorrebbe tutti bruciare in sacrificio per glorificare Ettore e con lei piange tutta Troia tutte le troiane e anche noi Grazie a tutti